A questo punto non mi resta che chiederti, chi sono, chi è se ne hai più di una, chi sono le tue icone di stile? Allora, la mia icona in generale nella vita è Britney Spears, che come vedi quando viene paparazzata in giro per Los Angeles È conciata con... È sempre in pigiama, in tuta, con i capelli a cazzo di cane Ah, quindi una Britney Spears, the backstage of Britney Spears Esatto, esattamente Ok, e invece sul palco, cioè per quanto riguarda, come dire, la tua iconografia da showgirl, quale sei? In realtà non ho un'ispirazione, nel senso che i vestiti, me li faccio io, non si ispirano mai a nessuno in particolare Semplicemente sono fatti in modo che io mi senta a mio agio Non c'è mai un'idea generica di moda, ovviamente l'avrei notato Però sono sempre fatti in modo che io mi senta bene con me stessa, che è la cosa che mi interessa di più Ma poi sai, ultimamente la moda non è che abbia regole, abbiamo visto la qualunque sulle passarelle Quindi io non credo che nessuno debba seguire delle regole per quanto riguarda la moda Anche perché è la moda stessa non seguirle e tu tanto meno Mi appoggio anche su questa cosa per enfatizzare il mio carattere, ovviamente Ho detto una cosa senza senso, forse E questo pure, Luciscia, è anche questo, parole a caso Tu sei sempre, hai questa allure molto svampita, molto sono appena arrivata, cosa ci faccio qui Sembra che ti abbiano appena presa gli alieni, messa lì, lasciata lì per i dieci minuti e poi recuperata C'è mai un momento in cui tu sei seria? Sì, sì, ovviamente sì, nel privato Perché come io dico sempre, Luciscia e Luca sono due persone completamente differenti Luca è la mente che... Io con chi sto parlando? Adesso con la via di mezzo Ah, ok Perché c'è anche la via di mezzo, ovviamente Ah, quindi siamo in tre già Siamo tre, in realtà Luca è la mente che ha creato un personaggio, secondo me, molto forte Luciscia, come dici tu, è quella... È il braccio È quella svampita, semplicemente È quella che metti in essere È tipo il burattino, ecco, facciamo questa cosa È il burattino e la mano dentro È il braccio È il burattino, esatto Però sì, chiaramente Luca, io mi ritengo comunque, a parte tutto, un ragazzo intelligente, umile, modesto, un ragazzo semplice Comunque vengo dalla campagna, ho una vita normalissima al di fuori dei palchi, degli studi Per cui, sì, ci sono dei momenti in cui mi spengo, soprattutto la sera, quando magari metto a letto e ripenso alla giornata che ho passato Però sì, esiste anche questo Perché mi fai ridere? Il stesso buono, ovviamente Senti, Luciscia o Luca o... Secondo te questa competizione avrà cambiato in qualche modo il tuo modo di fare drag? Allora sì, sicuramente La cosa che ho notato più particolare che mi ha cambiato è stato il contatto con altre drag queen Perché comunque io quando lavoro nei locali di solito sono l'unica o comunque ci sono altre due o tre persone Non siamo sempre uno staff grandissimo perché io sono la più pagata Per cui tutto quello che spendono con me non possono ovviamente chiamare anche le altre A parte gli scherzi Quindi il contatto con le altre mi ha cambiato tanto, mi ha fatto vedere diversi punti di vista Anche perché a parte tutto si è creato veramente un gruppo Per cui anche avere dei pareri artistici da parte di artiste completamente diverse da te ti aiuta a crescere Quindi la risposta è sì